Patrizia Tapparelli è una bravissima amice cantante e teatrale che vanta numerose collaborazioni e successi con la RCA con personaggi importanti della musica leggera Gianni Morandi, Roberto Ricchioni ha cantato nella scuola di Antoni, nel Dandemonium e con il maestro Letto Mariano ha realizzato numerose coloni sonore di film di genetà famosi film come Mariano Genetano e Renato Pozzetto e anche lei da alcuni anni fa parte della Guadalmere Gross mistero e quindi adesso Patrizia ci leggerà l'altra motivazione per il prego prego buonasera allora ad Arnardo Vittangeli figlio d'arte per tradizione familiare fondatore ed editore dell'antestata alla finanza sul web esperto di geopolitica ed economia acuto interno della dignità e dei diritti della collettività coerente difensore della libertà di espressione nella quale si identifica il vero giornalismo importante pilastro della democrazia servitore della centralità dell'uomo di chi non ha voce e nei più deboli va il premio Italia diritti umani 2020 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a favore di Francesca allora a te ovviamente la domanda di Vito dopo una premiazione ti sei sentito anche se una motivazione stridata come dicevo prima hai sentito scoperto insomma in questa motivazione per parte del contegno sarò sincero intanto devo dire che sono rimasto così toccato da quello che ho sentito da questa storia che è effettivamente sconvolgente che forse ho perso un po' di lucidità tutti però quello che posso dire è che io sono rimasto molto stupido quando Piergine mi ha chiamato e sinceramente sono rimasto molto stupido forse ha sbagliato forse voleva dire un'altra cosa forse voleva dirmi se faceva un servizio su questo premio però ho deciso di accettarlo pensavo che posso accettare questo premio non per meriti miei perché non penso di avere meriti giustiti con questo premio ma per meriti altrui nel senso che la stampa in Italia è arrivata a un livello così basso così vergognoso così indegno e così complice e quindi che vengono promessi costantemente contro il mondo di Europa e non solo in ogni angolo che sta succedendo adesso in ogni angolo del mondo che ci fa il proprio mestiere con un minimo di decenza cercando di raccontare la verità in onda di ottenere vantaggi per se stesso evidentemente rappresenta un'eccezione e purtroppo questo è a mio avviso il motivo principale uno dei motivi principali della situazione in cui ci troviamo ed è una che cambia grazie grazie sono molto contattato grazie a tutti 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 grazie a tutti